L'ottava giornata del campionato di prima categoria Girone H vede il Corpolò scendere in campo con il Diegaro Macerone, attuale capolista insieme a San Ermette e alla Viserbella. Partita d'esordio per il nuovo mister giallorosso Luigi Nicolini, subentrato Giovanni Lasagni dopo solo sei giornate di campionato. Il Corpolò schiera rezzuti tra i pali, Garattoni, Giannoni, Strologo, De Paoli, Castellani, Magnani, Domeniconi, Cabori, Leardini e Aissawi. Gli ospiti rispondono con Pacileo tra i pali, Ragonesi, Castorri, Lucchi, Paci, Mambelli, Antoniacci, Agrusti, Collini, Baiardi e Girardi. La cronaca. All'ottavo minuto di gioco il Diegaro attacca con Girardi che conclude il tiro di poco al lato della porta. Ci provano Paci e Mambelli a sfruttare l'incertezza della difesa casalinga ma anche loro sprecano questa occasione. Al ventitreesimo angolo per il Diegaro ma il vantaggio è ancora lontano per gli ospiti. Prima Antoniacci poi Collini si lasciano sfuggire la palla al lato della porta difesa da Rezzuti. Passano sei minuti e gli ospiti sono ancora davanti alla rete casalinga ma anche questa volta Girardi conclude il tiro oltre la traversa. Al trentanovesimo minuto distrazione generale della difesa Cesenate. Cabori recupera la sfera ma il suo tiro finisce tranquillamente tra le braccia dell'estremo difensore ospite. Passano tre minuti e il Diegaro si porta in vantaggio. Girardi cerca la rete, Rezzuti difende la porta ma non blocca la sfera. Collini ne approfitta e va a rete. 0-1 Il Corpolò cambia registro dopo l'intervallo ed inizia il secondo tempo con più carattere. Al sesto minuto del secondo tempo Domeniconi batte una punizione da bordo campo senza nessun ostacolo né deviazione. La palla finisce nel sacco. 1-1 Dopo quattro giri di lancette il Diegaro cerca di riportare il punteggio a proprio favore ma all'ottimo schema Mambelli-Lucchi-Girardi termina il tiro fuori dalla porta avversaria. Al sedicesimo minuto un'azione di Liardini fa sperare nel vantaggio casalingo ma il suo tiro finisce di poco alato. Passano quattro minuti e Baiardi si porta tranquillamente davanti a Rezzuti, bravo a non farsi sorprendere e a deviare il tiro. Un minuto dopo gli ospiti ci riprovano ancora, con Mambelli che coglie la sfera passata gli da Girardi ma il pallone finisce oltre la traversa. Al ventisettesimo Magnani recupera la poca concentrazione avuta nel primo tempo, arriva indisturbato davanti alla porta e segna il secondo gol giallo rosso. 2-1 Al trentanovesimo gli ospiti rimangono in dieci uomini in seguito all'espulsione di Paci per doppia munizione. Passa un minuto e il Corpoloci prova ancora con Pompei che sbaglia un tiro, in realtà facile da concludere a rete. Non bastano sette minuti di recupero per cambiare il risultato. Una partita ricca di occasioni, non facile da arbitrare ma diretta precisamente dall'arbitro Chiara San Giorgi della stazione di Faenza che insieme al nuovo mister giallo rosso merita i complimenti per averci regalato uno spettacolo del vero calcio di Lettanti. Esordio del nuovo mister quindi? Quindi contento per il risultato, è stata una partita molto sofferta, è stata molto sofferta, chiaramente loro nei primi della classe si vede che sono una buonissima squadra. Noi ci abbiamo messo la voglia, il carattere e diciamo che ad occasioni, anche se il gioco l'hanno fatto più loro, le abbiamo avute due o tre nitide anche noi, nel primo tempo sicuro. Non si mette in discussione l'abilità e la bravura dei ragazzi, però manca uno schema, manca qualcosa, vi concentrerete su quello nei prossimi allenamenti? Allora noi oggi la partita l'abbiamo preparata in tre giorni, io ho fatto il primo allenamento giovedì sera e quindi in tre giorni per quanto uno possa avere delle qualità, delle capacità è molto difficile preparare una partita. Quindi gli ho chiesto una partita di sacrificio, di aver pazienza, umiltà, di stare lì, sbagliare poco e di giocarne le ripartenze. E noi l'abbiamo fatto. In definitiva il nostro, voglio dire, per carità, possesso palla, tutto quello che vuoi, più loro, ma è giusto che sia così. Però oggi poi c'è andata bene, siamo stati anche fortunati nel gol dell'1-1, ma siamo stati molto sfortunati nelle due parate tre che ha fatto il loro portiere nel primo tempo e uno nel secondo. Però, chiaro, la partita l'hanno fatta loro, delle volte nel calcio c'è chi fa la partita e portano a casa i punti gli altri. Però merito sicuramente i ragazzi perché noi non abbiamo mollato niente, non hanno mollato niente e sono stati sempre con la testa lì, quindi hanno fatto una grande partita. Un ottimo punto di partenza comunque. Mercoledì si scende di nuovo in campo, quindi non c'è tempo di riposarsi né nulla. Come vi preparate? Adesso ci prepariamo martedì all'allenamento. Io gioco contro, purtroppo per me, come un derby, perché ho allenato tre anni la Stella Rimini. Quindi, voglio dire, farò fatica forse a capire quali sono i miei o i ragazzi che ho adesso, i nuovi. Chiaramente adesso sono nel corpo l'ho e corpo l'ho, però niente, ci prepareremo al meglio come questa. So che sarà una partita difficile perché conosco parecchi di quei ragazzi e so che, insomma, ce la mettono sicuramente tutta come noi oggi. Dopo un sacco di risultati positivi, la prima sconfitta? Si dice che serve anche quella per crescere. Diciamo che nonostante in settimana si fosse parlato di questa partita, perché io la temevo molto, che giocare in un campo piccolo, comunque con caratteristiche diverse come quello di Corpolò, comporta affrontare la partita in maniera diversa. C'è più agonismo, ci sono più contrasti, è una partita che normalmente diventa più maschia di suo. Quindi si era incanalata nel verso giusto, poi penso che un errore del nostro portiere abbia sicuramente dato il via a una carica da parte della squadra avversaria, che ha trovato il secondo gol per una nostra disattenzione. Mi spiace principalmente aver perso un giocatore per un'espulsione, secondo me, ingiusta, però d'altronde l'operato dell'arbitro si fa fatica a contestarlo. Quindi si riparte, per nostra fortuna non è l'ultima di campionato e quindi siamo a un quarto della strada da fare. Spiace perché comunque la squadra per il primo tempo si è espressa diciamo bene, però il calcio è anche questo, quindi un po' di umiltà non fa male, non fa male sicuramente. A proposito del primo tempo, avete avuto molte occasioni prima del gol, come mai non siete riusciti a concretizzare? Penso che la fame e la voglia dei giocatori sia verificabile o comunque l'atteggiamento della settimana, anche della squadra durante l'allenamento non era quello giusto. Il fatto di venire fuori dopo sei giornate in testa della classifica fa piacere, la squadra è stata costruita e tanto non è che uno si debba nascondere per cercare di fare un campionato da protagonisti. Poi vincere bisogna essere anche fortunati, oltre che bravi, però un campionato da protagonisti. Oggi l'abbiamo affrontata un po' rosicati, rosicati perché comunque la coppia dei centrali non era quella solita nostra perché abbiamo degli infortuni, ma non deve essere una scusa perché comunque si è scesi in campo 11 come 11 erano gli altri. Quindi chi scende in campo e fa parte della rosa è giusto che se ha le possibilità, se le giochi. La voglia ci è stata messa, però la mentalità deve essere diversa, ci vuole più fame per portare a casa i risultati. Oggi il corpo l'ha avuto più fame di noi. Mercoledì si torna comunque a giocare, com'è? Vi preparate? Ci prepariamo penso a testa bassa per vedere di far sì che questo fosse realmente un passo falso in una stagione che ci può stare, quindi con umiltà e voglia di lavorare perché comunque c'è da crescere. Creare tanto e non portare a casa è comunque sintomo di poca concentrazione più che altro perché le qualità dei singoli di questa squadra non si discutono. Però in campo se non si lavora da orchestra e si pensa individualmente di portare a casa il risultato o camminare, come mi è capitato di vedere negli ultimi 20 minuti qualche giocatore a testa bassa, non è positivo. Dopo alcune sconfitte, primo risultato utile, veramente lottato e avete concluso direi in modo ottimo. Sì, sapevamo fin dall'inizio che era una partita dura contro la capolista, una buonissima squadra con degli ottimi giocatori. Abbiamo fatto il cambio del mister da poco, quindi era anche magari difficile per noi un po' iniziare la partita. Ci ha detto venerdì e giovedì in due giorni come doveva stare, una partita di contenimento, pochi rischi e lottare, metterci la fame che avevamo tempo fa. Finalmente abbiamo ottenuto i primi tre punti che penso che siano oggi per come ha lottato la squadra dall'inizio alla fine e veramente meritati, anche se il gioco, come ha detto il mister prima, l'hanno fatto loro. Però sono degli ottimi tre punti di partenza da cui dobbiamo partire e non dobbiamo adagiarsi per questi tre punti ma soprattutto continuare un percorso da qua. Avete cambiato carattere dal primo al secondo tempo, cosa è successo? Sì, anche il primo tempo non avevamo giocato male, comunque loro, come ho detto prima, degli ottimi giocatori ci mettevano in difficoltà molto sulle fasce, però la squadra c'era, c'è stata anche il primo tempo, al di là del gol che abbiamo preso, la squadra è ritornata in campo ancora più fame, questa che ci è mancata in questo periodo. Corpolò prima di tutto deve puntare sulla squadra, sul gruppo e sui giocatori stand uniti e al secondo tempo credo che siano venuti fuori i veri valori di questa squadra. Mercoledì si torna in campo contro La Stella, poi avrete Wieserbella e Junior Real Marignano, come vi preparate? Sì, sono tre partiti difficili, però non dobbiamo avere paura di nessuno. Sappiamo che noi la squadra ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, siamo al di là dei risultati precedenti, siamo un ottimo gruppo unito e cercheremo di far questo il nostro punto di forza da cui partire e cercare sempre più punti andando avanti.